sono quasi quasi cotta e siamo quasi all'inizio benissimo se partiamo piano se parte e vienci La grotta? No, pochi. 3-4 cento. Dobbiamo andare anche se è chiusa o no? Cos'hanno fatto? Il prossimo giorno di libertà. Esatto. 3 settimane è chiusi. Prima del lockdown. Eri troppo lontano. Vieni. Bella rossa. Siamo arrivati. Siamo arrivati.